Scusami per questa improvvisata a casa tua. Fabio, c'è qualcuno? Formerete due squadre. Ci saranno tre giochi a cui partecipare. Iniziamo. Che cazzo no! Devo andare in bagno! Basta. Vittoria alla squadra A. Lascia! Lasciami! Cosa hai fatto? Dovrete sparare ad un vostro compagno. Scegliete. Cinque. I giochi sono finiti. Scegliete. Scegliete. Giulia! Questa è la foto più importante. La vuoi vedere, Matteo? Matteo, vieni fuori. Ora tocca a te. Inquadrami! Ciao! Dai, sedetevi. Quello in mezzo è il mio posto. Sì. Negli qui a casa dell'intervaiare qui la fosse via dalla fila d'acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso saremo tutti insieme lì dentro. Nello schermo. Dentro la casa che brucia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora possiamo andare via insieme. Se non ci avessi messo così tanto tempo, tutto questo non sarebbe successo. Mettila via. Non mi filmare. Non mi filmare mai più. Non mi filmare. Non mi filmare. Grazie per la visione Grazie per la visione Sai qual è la cosa più terribile che ti possa capitare? Essere riprese mentre si muore Grazie per la visione